inizia in questo momento lazio verona in questo anticipo serale con la lazio in completo bianco celeste che attaccherà da curva nord verso curva maestrelli dove sono assiepati 5 600 tifosi del verona dovrebbe ripartire a lazio il lancio di pedro sbagliato un tocco con un braccio che ovviamente l'abbio non vede attenzione va a ripartire pallone in aerea di gore luis alberto ancora in avanti l'ho fatto il numero venti la verticalizzazione l'ha fatto il numero venti mattia zaccagni torna il capo con il gol stavolta nemmeno passa può aiutare il verona perché tuta non lo spinge nessuno si incarta da solo perde il pallone saccagni si vola servono in salverto che gli riconsegna il pallone solo davanti a montipò e di sinistro mattia zaccagni mette il pallone tra il pallone e il portiere portando in vantaggio la lazio in maniera strameritata forza ragazzi che rilancio del portiere la lazio mandas palla risparata in avanti e finisce questo momento con la lazio che batte il verona per una rete a zero tre punti importantissima ma soprattutto il rientro di zaccagni positivissimo è lui a regalare la vittoria alla lazio ci volevano tre punti fondamentali per questa rincorsa ad un'europa ma quello che conforta è anche un po' la prestazione sicuramente il risultato va stretto però bene così grazie